Ecco oggi invece un bel maschietto di ramarro. Come si può vedere sotto la gola è tutto blu. Ecco è lì. Lasciamo andare? Bellissimo. Pronto a mordere. Però tanto il morso non è velenoso. Però c'è una bella stretta tutto sommato. Ecco si tiene. Lasciamo andare? Che è lì? Guarda lo mettiamo qua. Vai. Lascia andare? Che è lì? Lascia andare? Bravo bravo. Lascia andare? Che è lì?